Sabato della terza settimana del tempo ordinario. La lettera agli ebrei praticamente dà la definizione, secondo la Sacra Scrittura, della fede. E lo dà di una forma teologica, ma di una forma anche concreta, cioè con i fatti concreti, parlando di come alcuni personaggi della storia di salvezza hanno camminato, si sono mossi nella vita per la fede. Capitolo undicesimo della lettera agli ebrei. Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera, prova di ciò che non si vede. Ecco, questa è la certezza di una nuova forma di conoscenza, no? Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. E adesso parla di Abramo. Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. possiamo dire anche molto criticato dalla famiglia. Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco, Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città, tale salde fondamenta, in cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede anche Sara, sebbene fuori dell'età, perché era anziana, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo, da un uomo solo e inoltre già segnato dalla morte, cioè vecchio, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare. E non si può contare. Dico, padre della fede. Nella fede morirono tutti costoro senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri pellegrini sulla terra. Chi parla così mostra di essere alla ricerca di una patria. Quello che abbiamo riflettuto tantissimo è dal tempo d'avvento sulla speranza. Si sono mossi, hanno creduto e si muovevano secondo la speranza. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarli. Ora invece, essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio, con si vergogna di essere chiamato loro Dio, ha preparato infatti per loro una città. Per fede, avremmo messo alla prova, offri il sacco. E proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offri il suo unigenito figlio, del quale è stato detto, mediante il sacco avrai una tua discendenza. E li pensavo infatti che Dio è capace di far risorgere anche dei morti. Per questo, lo riebbe anche come simbolo, parola di Dio. Ecco, ha fatto un racconto storico, concreto, della vita di Abramo. E perché ha fatto questo? Per la fede, no? E questo. E come Salmo, la Chiesa ci propone oggi il conosciuto Benedictius. La parte finale del primo capitolo di Luca. Bredetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. Però non l'ha fatto di una forma esteriore, se non l'ha fatto concreto. Ha messo l'umanità accanto all'uomo. Si è fatto uomo. Dopo la parola del Vangelo ci chiarirà tantissimo questo. Ha suscitato per noi un Salvatore potente, nella casa di Davide, il suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti, tutt'un tempo, la salvezza dai nostri nemici, dalle mani di quanti ci odiano. La salvezza da quello del nemico principale, che è la morte, ma l'autore della morte, il diavolo. E come uccide? Con il peccato. Consigliando a te, consigliando a me, di rivelarci alla storia. Ecco perché in questo sabato la parola è un invito alla fiducia con Dio, a non rivelarti della tua storia, a non guardarla come un disastro, come un falimento, a non offrire resistenza alla storia. Lascia entrare a Gesù Cristo, che Lui possa entrare nelle tue sofferenze. Questo è salvezza di questi nemici. Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri, e si è ricordato della sua santa allianza, del giuramento fatto da Abramo. Il giuramento qual è? La terra promessa, una discendenza dei credenti. Guarda le stelle, riesci a controllare? No, la tua discendenza sarà molto più di questo che vedi. Di servirlo senza timore, in giustizia, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. E dopo continuerà, però oggi la liturgia spezza un po' il benedictus. Perché il Signore possa entrare nella tua vita. Lascialo entrare. Sembra a volte che che sta distratto, o a volte, peggio ancora, che tu non senti la sua presenza. Ascolta il Vangelo, perché senza dubbio ti darà, come a me, una parola capace di spezzare le tenebre. Il quarto capitolo di Luca, di Marco, dice così, in quel medesimo giorno, venuta la sera, sicuramente loro stavano camminando, predicando, Gesù era molto stanco, chissà quanti miracoli aveva fatto, e dalle prime ore del giorno la gente lo cercava e non lo lasciava. Era stanchissimo. Gesù disse ai suoi discepoli, passiamo all'altra riva del lago di Galilea, cioè andare a un'altra città o a un altro posto un po' più tranquillo. Il mezzo di trasporto per attraversare un lago è più facile attraversarlo con una barchetta, con una nave, che andare camminando tutto attorno, no? Anche perché non è tutta spiaggia, non è facile camminare attorno. E disse, è congelata la folla, lo presero con sé, gli apostoli, si capisce, così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui, perché ricordiamoci che ci sono diversi pescatori in questo primo gruppetto di seguaci del Signore, no? Che cosa è successo? Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano sulla barca, tanto che ormai era piena, piena d'acqua. Lei se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. E' impressionante questo perché, lo dico un'altra volta, il cristiano ci deve fare un pellegrinaggio in Terra Santa, almeno una volta nella sua vita, e tu lo devi fare, devi fare, perché è la nostra terra. E io ricordo che trovandomi lì su una barca, attraversando la tiberia di Cafarnò, il mare era tranquillissimo. E di un momento all'altro, e con una barca moderna, e ci si alzò il vento, le onde erano fortissime, tanto che siamo tornati indietro. Una cosa impressionante. Di un momento all'altro. però, che cosa dice? Gesù stava lì, dormendo. Allora lo svegliarono e gli dissero, Maestro, non ti importa che siamo perduti. Si destò, minacciò il vento e disse al mare, Tacci, calmati. Il vento cessò, e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro, A chi avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore, e gli dicevano null'altro. Chi è dunque costui che anche il vento e il mare li vediscono? Parola del Signore. Certo che con uno sguardo molto veloce sembrerebbe che a Gesù non importa niente fra tempo che gli altri stanno lì lottando e lui dorme. E' incredibile, no? Lui, che non è un uomo abituato al mare, invece gli altri sì, gli altri sanno come affrontare le tempeste. Chissà questi pescatori quante volte sono stati sorpresi da questo tipo di vento, di tempesta, però non sanno affrontare. E sai, la chiave di interpretazione di questa parola ci la dà la forma in cui Gesù interpela a questa tempesta. Che cosa dice? Tacce. E che c'entra? Tacce. Calmati. E questo ci fa ricordare quando i demoni iniziano a sparlare di lui, a dirgli eh, tu che vuoi di noi il figlio del Signore. E il Signore dice Tacce. esci da questo uomo. Questa è la leva di interpretazione. Perché? Perché dentro gli Apostoli, nel cuore degli Apostoli c'era un virus contaminante che è la mormorazione. Il cattivo pensiero come questo viene con noi è tanto potente e dorme non importa niente. vedi? La mormorazione sulla storia. La mormorazione nella sofferenza. Ecco perché il Signore la prima cosa che le deve dire a loro è silenzio, taci, basta di mormorare, basta di pensare male, basta di pensare che Dio non ti ascolta, basta di credere che Lui è distratto, basta di pensare, credere alla bugia di che Lui non ti protegge o peggio ancora la bugia che ti ha messo nella testa la brutta bestiaccia dicendoti tu non sei figlio di Dio, Lui non è il tuo padre perché non ha cura di te, vedi come ti lascia davanti alle sofferenze, questa è la bugia centrale, ecco perché la parola del Vangelo per te e per me oggi in questo sabato e il sabato è sempre dedicato alla Madonna perché Maria Santissima non si cansa, non si stanca di accompagnare gli Apostoli in tutti i momenti prima, durante e dopo la sofferenza, la crocifizione del Signore accompagna la Chiesa lei ti accompagna perciò ha benedetto il Signore e il Dio di Israele perché ha visitato e ha redento il suo popolo non si non 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 lo ha lasciato in baliale delle onde capito? tu non sei da solo tu non sei da sola il Signore è accanto a te ma perché tu lo possa vedere lo possa ascoltare perché tu possa accettare scoprire la sua presenza nella tua storia nel tuo matrimonio che cade a pezzi o che sta perdendo eh la felicità che sta perdendo il sapore che cosa c'è bisogno? silenzio basta di mormorare basta di pensare male basta perché tu possa ascoltare che cosa vuol dire Dio e come vuole lottare con te davanti alle tempeste ecco perché il Signore era stanco sì ma c'è un'altra tempesta la tempesta interiore di cui solo il Signore ti può dare la vera pace taci taci calmati calmati tranquillo tranquilla guarda la tua storia siamo insieme ti dice il Signore siamo insieme nella stessa parca non sei da solo siamo insieme che bellissima la parola la parola è molto bella perché con te con me il Signore entra nella tempesta entra nella sofferenza lascialo entrare fa silenzio ecco perché che cosa manca la vera fede la vera fede come lo diceva la lettera agli ebrei no? la certezza l'essere certo concreto il fondamento di ciò che si spera la prova di ciò che non si vede questa è la vera fede e noi sappiamo che la maestra della fede è Maria Santissima lei continua a camminare accanto a te accanto a me presentandoci il suo figlio Gesù Cristo e salendo salendo con lui sulla croce perché lei lei sale accompagna il suo figlio guarda come il suo figlio Gesù Cristo accompagna la chiesa nella tempesta ma non la mamma non lo abbandona la mamma lo accompagna a salire sulla croce e lo aspetta nella risurrezione che Maria Santissima continua a guidarci che il Signore continua a calmare le nostre tempeste perché possiamo sperare in lui buon e benedetto sabato della madonna grazie